Perché dovresti studiare la SEO se sei un web designer? Molto bene, in questo video ti spiego 5 motivi per i quali dovresti studiarla da subito. Sono Andrea Marchetti, sono un web designer professionista da 12 anni e se mi segui sai che mi occupo di realizzazioni di siti web professionali da una vita. Ho sempre fatto SEO, ma negli ultimi anni ho un po' tralasciato questa disciplina perché si tende un po' a sedersi sugli errori quando si va un po' a capire magari come funziona una cosa, no? Mi sono focalizzato più su altre cose, sulla comunicazione, sul design, sulla persuasione attraverso design e comunicazione, user experience. Però è molto molto importante riuscire a portare traffico sulle nostre pagine dove poi andiamo a comunicare e a portare i nostri utenti alla conversione attraverso la SEO che è lo strumento diciamo più semplice e più anche in termini monetari convenienti, dipende poi dai settori però, per portare traffico sui nostri siti web perché se facciamo un sito web e poi questo riceve zero visite, logicamente il cliente non sarà contento. Ok, quindi qual è il primo motivo? Il primo motivo è perché la SEO va ad aumentare il valore dei tuoi progetti. Quindi se tu fai un sito web e poi questo sito web, oltre ad avere un design e una comunicazione persuasiva, ha la capacità di attrarre traffico per una determinata query di ricerca, per esempio se tu cerchi realizzazione in siti web Pavia e trovi il mio sito, praticamente io gratuitamente ogni mese da questa query di ricerca ho un tot di traffico di persone che vedono i miei servizi, la mia offerta, che vedono il mio, diciamo la mia offerta appunto sul mercato della realizzazione in siti web. Stessa cosa vale per altri settori, bisogna trovare quindi la query giusta, però poi tu hai traffico che arriva sul tuo sito web e questo aumenta il valore dei tuoi progetti e quindi tu puoi aumentare i tuoi prezzi come web designer, se sei bravo poi anche a vendere questa cosa. Un'altra cosa è che il sito diventa più efficace, perché se tu hai più traffico e logicamente hai una comunicazione, un design fatto bene che va a convertire, praticamente il sito porterà più contatti di potenziali clienti e quindi diventando più efficace il sito anche qui tu puoi aumentare i tuoi prezzi, puoi aumentare il tuo valore sul mercato come web designer. Un'altra cosa che va, ed è il terzo punto che va ad aumentare il tuo potenziale di guadagno è il fatto che tu puoi aggiungere, diciamo, questo servizio di posizionamento SEO separatamente alla realizzazione del sito web, quindi tu puoi aggiungere nel tuo portfoglio di servizi anche l'ottimizzazione per i motori di ricerca insieme alla realizzazione del sito, il restyling del sito, l'ottimizzazione delle performance, quindi è una cosa in più che tu puoi avere da offrire ai tuoi clienti e magari anche clienti che hai già, che però non hanno un sito magari ben posizionato o hanno un posizionamento base, praticamente tu hai una cosa in più da offrire e che permette di aumentare il tuo guadagno. Altra cosa che è interessante di questo tipo di servizio è che il servizio SEO sia un servizio ricorrente, perché se tu non vai a continuamente, diciamo, a nutrire la SEO di un sito web, alla lunga si tende a perdere il posizionamento, ci saranno nuovi competitor, ci saranno nuovi contenuti che possono andare a scalfire il tuo posizionamento, quindi è un servizio ricorrente che tu puoi vendere al tuo cliente con un servizio, per esempio, con un servizio mensile, con un costo mensile, tu vai continuamente a fare delle ottimizzazioni, a lavorare sul sito web, quindi questa è un'altra cosa interessante. Quinto punto, quinto e ultimo punto, è che questa tipologia di servizi è collegata alla realizzazione del sito web, quindi se tu hai già realizzato il sito web per vari clienti, puoi proporgli un'ottimizzazione SEO più avanzata. Io dopo scontato che tu abbia fatto l'ottimizzazione base a livello di codice e a livello standard di contenuti, però questa è una cosa che dopo scontato è un'ottimizzazione base che abbiamo sempre fatto, l'ottimizzazione SEO avanzata è quella dove invece vado a vedere quali parole chiave sono più ricercate, che volumi di ricerca hanno, che concorrenza c'è e come si va poi a creare contenuti. Adesso anche con ChatGPT che ci dà una mano è veramente una figata perché a livello strategico tu fai la strategia, poi i testi ti può dare una mano ChatGPT a crearli, logicamente i testi che fa ChatGPT non sono perfetti, poi ci devi lavorare, ci devi lavorare anche parecchio, però è una grande mano e ti permette di praticamente creare più contenuti per i tuoi siti web, più testi in maniera più efficiente. Quindi avere questo servizio correlato alla realizzazione di siti web che puoi vendere ai tuoi clienti che già hai è veramente un altro punto a favore del saper fare SEO. Quindi fate come me ragazzi, riprendete in mano la SEO, andate a rispulciare un po' i vecchi contenuti, i vecchi siti che avevate fatto e cercate di migliorarli perché veramente la SEO adesso con anche questi nuovi strumenti è diventata una cosa molto più diciamo efficiente e si può fare in maniera molto molto professionale. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo presto, un saluto, qui sotto c'è il link per iscriversi alla community dove parliamo di queste cose tutti i giorni, dagli un'occhiata, un abbraccio, ciao!